Sono stato invitato oggi alla settimana della domotica per parlare dell'esperienza del nostro nuovo negozio realizzato in legno e completamente autosostenibile perché è alimentato solo dall'impianto fotovoltaico presente sul tetto. La nostra azienda esiste dal 1998 e nel 2013 avevamo l'esigenza di allargare il punto principale dell'azienda, il negozio Punto di Vignola, abbiamo deciso di realizzare questo negozio in legno. Abbiamo avuto alcune difficoltà perché non abbiamo trovato altri spazi commerciali realizzati in legno allora, però tramite un architetto di Vignola, Flavio Quintavalli e la VibroBlock, siamo comunque riusciti a portare avanti il progetto e con grande soddisfazione nel 2015 abbiamo inaugurato questo edificio in legno con un grande tetto fotovoltaico che alimenta completamente tutto l'edificio ed è in grado di generare tutte le energie necessarie per il caldo e il freddo dell'edificio.